Ingressi illegali triplicati, ma la Grecia prova a difendere i propri confini. I dati parlano chiaro. Nel 2022 la Grecia ha impedito a circa 260.000 migranti di entrare illegalmente nel paese e ha arrestato 1.500 trafficanti. Lo ha comunicato il ministro greco per la sicurezza, Theodore Kakos, agli ambasciatori degli altri paesi dell'Unione Europea, oltre a Svizzera e Regno Unito, durante la visita alla frontiera greco-turca di Evros. La nostra visita è un messaggio molto forte di solidarietà in tutta Europa, unità e determinazione a proteggere e a presidiare il confine della Grecia con la Turchia, che anche il confine dell'Unione Europea con la Turchia. È un forte messaggio di applicazione del diritto internazionale e credo che la Turchia dovrebbe riceverlo. Per i migranti che sognano una vita migliore in Europa, il vero spauracchio è la recensione, un vero e proprio muro, alta 5 metri alla frontiera tra Grecia e Turchia, attraverso il fiume Evros. Attualmente si estende per oltre 27 chilometri ma verrà ulteriormente allungata.